Nella scorsa lezione, un paio di lezioni fa in realtà, avevamo visto il teorema fondamentale del calcolo integrale, il teorema fondamentale del calcolo integrale dice che, lo ripeto, se f di x è l'integrale tra x di f piccolo di t di t, f, diciamo, è continua nel punto x con 0, allora, f primo di x con 0 è uguale a f piccolo di t. Allora, questo ci diceva in particolare che, se io devo calcolare l'integrale tra a e b di f piccolo di x dove f è una funzione continua, questo è uguale a f di b meno f di a, che è uguale a g di b meno g di a, dove g è una qualunque primitiva di f di, per fare che la derivata di g faccia f di. Ok. Questo discorso è molto importante perché ci consentiva, nella pratica, di andare a calcolare l'integrale mediante la ricerca di una primitiva. Allora, quello che è la ricerca di una primitiva, lo chiamiamo integrale indefinito. Integrale indefinito, la ricerca di una primitiva, cioè di una funzione g tale che g, o di tutte le funzioni g, perché naturalmente noi opereremo su dei connessi e lì le primitive sono uniche a meno di una costante additiva. Ok. Quindi l'integrale indefinito la indichiamo senza indicare gli estremi di integrazione. quindi quando diciamo che questo è uguale a f di x più c, questo vuol dire se sono 6, f' di x uguale a f di x. L'importante però è che quando troviamo la primitiva e andiamo poi a, innanzitutto, la f piccola deve essere continua perché possa funzionare in teorema. E poi si può applicare soltanto sui insiemi connessi. Questa è una definizione. Ora, abbiamo poi visto il primo metodo per andare alla ricerca, diciamo, di queste primitive. Un primo metodo di integrazione è quello di integrazione per parti. Quindi se io devo fare l'integrale di f piccolo g grande inde x, questo qua è uguale all'integrale, scusate, f grande di grande meno l'integrale di f grande gb inde x. dove? F grande è di classe c1, f grande primo qual'è? E g grande è di classe c1 e g grande primo qual'è? questo è banale perché questo ci dice se solo se la derivata di f grande g grande è uguale a f piccolo g grande più f grande g piccolo. significa che io porto questa integrale a sinistra e allora dire che l'integrale di f piccolo g grande più f grande g piccolo uguale a f grande g grande vuol dire che la derivata di f grande g grande è uguale a f piccolo g grande e f grande g. ma questo è vero perché siccome f grande è una primitiva di f piccolo g grande è una primitiva di g piccolo e la regola di derivazione della funzione del prodotto ci dice che mettiamo anche questo. Quindi questa è la mia integrazione per parte. Questo qui relativamente all'integrale indefinito perché relativamente all'integrale indefinito non l'avevamo scritto ancora. se lo vogliamo, diciamo, scrivere per l'integrale definito basta aggiungere gli estremi di integrazione cioè l'integrale tra a e b di f piccolo di x g grande di x è uguale a f grande di x valutato in b meno il valore di questa funzione valutato in a meno l'integrale tra a e b di f grande g. Quindi questo l'abbiamo già visto, l'abbiamo già applicato per calcolare qualche integrale. Questo è un metodo. Andiamo a vedere qual è l'altro metodo, anzi pilastro portante che ci servirà per il calcolo esplicito degli integrali quando questo è possibile, cioè il terreno che riguarda il cambiamento di varianti per le funzioni di una variante. allora, per semplicità, il discorso è questo qui, io devo andare a fare, l'integrale tra c e d di f piccolo x in dx. Ok? Poi suppongo di avere un'applicazione gamma da un intervallo a b su un intervallo c e d che sia invertibile. non solo, gamma deve essere di classe c1 di a b e gamma meno 1 deve essere di classe c1 su c. quindi, un'applicazione del genere si chiama diffeomorfismo. se fosse stata solo continua insieme alla sua inversa si sarebbe chiamata omeomorfismo. però, siccome pretendiamo che sia di classe c1, la chiamiamola c1. ora, se vi ricordate, dovreste sapere che tipo di applicazione è. un'applicazione del genere è monotona, è monotona e la derivata quindi deve avere segno costante e non è mai nulla. la derivata ha sempre segno, per esempio, positivo se la funzione sale o negativo se la funzione sale. la funzione immensa, cioè la derivata ha lo stesso tipo, perché se vi ricordate la regola di derivazione della funzione immensa, gamma primo calcolato in un certo punto per la derivata di gamma meno 1 calcolato in gamma inti, devi fare 1, quindi noi abbiamo t gamma di t e abbiamo gamma primo di t, poi abbiamo, qua lo chiamiamo x per gamma meno 1 di x, allora, gamma meno 1 primo calcolato in gamma inti, per gamma primo inti, deve fare 2, questo per il teorema di derivazione dell'applicazione. quindi, se ne deduce che, né questa derivata né questa derivata possono mai fare 2, oppure se preferite scriverlo, gamma meno 1, derivato, calcolato in x, per la derivata di gamma, calcolato in gamma meno 1 di x, è sempre uguale. quindi, capite benissimo che la derivata di gamma meno 1, né la derivata meno 1, né la derivata di gamma, possono mai fare 2. in verità, quando sto per andare a dire, vale anche in un caso, in qualche caso più generale, per esempio, quando andremo a fare il cambiamento di variabile, potremmo usare per esempio la funzione seno tra zero e pi greco mezzi, è sale, è invertibile, l'inverso della funzione è al coseno, però la funzione seno nel punto pi greco mezzi c'è la derivata che vale coseno di x, che in pi greco mezzi vale 0. cioè, in realtà, sugli estremi questa condizione si può rilassare, cioè si può non pretendere che la funzione, diciamo, praticamente deve essere, va bene anche se c'è uno sulla parte interna e continua a finire sugli estremi. però, diciamo, noi per semplicità dimostriamo il teorema in queste ipotesi, anche se poi lo applicheremo in situazioni in cui è sempre vero, però, diciamo, in cui dovremmo fare dei piccoli ragionamenti per applicarlo. Allora, cosa dice questo teorema di cambiamento di variate? Allora, dice qui, lo iscrivo un po' Dice che se io devo fare l'integrale tra c e d, scusate, di f di x in dx, questo è uguale all'integrale tra a e b di f di gamma di t per gamma primo di t in valore assoluto in dx. Quindi avete a disposizione due formule. Potete scegliere quello che più vi pare, però in realtà la formula più significativa è questa. E questa formula metterà poi in analisi due, in generalizzazione, al caso delle piccoli ragioni. Prima di dimostrare questo teorema, andiamo a cercare di inquadrarlo, come dire, strutturarlo nelle conoscenze che già abbiamo. Allora, sostanzialmente noi cosa facciamo? Stiamo facendo la sostituzione x uguale gamma di t. Allora, se x è questa funzione di t, chi è dx in dt? Con questo simbolo, noi generalmente usiamo la derivata, quindi deve essere gamma primo di t. Allora vedete che quello che era dx, qui diventa gamma primo di t dt. Cioè, è come se io avessi portato questo dt. Naturalmente, però, questa non è una dimostrazione, è soltanto un discorso mnemonico. Cioè, se x è uguale gamma di t, dx è gamma prima di t dt. Quindi mi serve a ricordare la funzione. Ovviamente, quando x uguale a gamma di t, a è uguale a gamma di chi? A gamma di gamma meno uno di c. Quindi, dove qui c'è la c, qui bisogna mettere gamma meno uno di c. E qui bisogna mettere gamma meno uno di c. Vedremo poi che qui ci devo mettere a o b a seconda se gamma primo è positivo. Allora, qual è la dimostrazione? La dimostrazione è abbastanza semplica. Perché come la dimostrazione della formula di integrazione per parti si basava sulla formula di integrazione del prodotto, la dimostrazione della formula di integrazione per sostituzione o di cambiamento di variabile, come si voglia chiamare, è basata sulla derivazione della funzione composta. Allora, noi andiamo a prendere questa funzione qui. Allora, diciamo, F grande la si prende continua. Questo non l'ho scritto ma bisogna scrivere. F grande è continua su Cd. Allora, per ipotesi, se F piccolo, scusate, se F piccolo e continua su Cd avrà una primitiva. quindi sia F grande appartenente a C1 di Cd, tale che F grande primo è uguale a Cd. Per esempio, è una funzione integrale. Allora, noi sappiamo che l'integrale tra C e D di F piccolo di X in dx, e sappiamo che questo è uguale a F grande di D meno F grande di C, questo lo sappiamo. Però, andiamo a fare, andiamo a considerare la funzione F grande composto gamma. Allora, cosa significa che dobbiamo applicare prima gamma? Gamma porta AB su Cd, è una funzione bionivoca. Quindi questa qua va da AB a valori in R. Allora, noi sappiamo che l'integrale tra A e B della derivata di F composto gamma, devo usare un'altra variabile perché se X varia tra C e D, la variabile che varia tra B la voglio indicare con T, per non creare confusione, questo a chi sarà uguale? Sarà uguale a F composto gamma valutato tra A e B. Quindi, mettiamo un po' di spazio qua, dovrebbe bastare per concludere la impostazione. Ma, la riscrivo quest'uguaglianza, eh? Quest'uguaglianza mi dice che l'integrale tra A e B di F primo, ma la derivata di F grande chi è? F piccolo di gamma di T per gamma primo di T. Quindi ho fatto la derivata usando la regola di relazione della catena, della funzione composto. Ho fatto la derivata di F grande, l'ho calcolata in gamma di T per la derivata di gamma calcolata in DT. Questo è uguale a F di gamma di B meno F di gamma di A. Ma questo chi è? E' uguale a F di D meno F di C se gamma primo è positivo. Invece è uguale a F di C meno F di D, questo nel caso in cui gamma primo sia sempre minore di zero. Se vi ricordate, gamma è una funzione monotona, quindi ha due possibilità. O gamma primo è sempre maggiore di zero, o gamma primo è sempre minore di zero. Se gamma è sempre monotona crescente, che vuol dire? Che gamma di A andrà a finire in C e gamma di B andrà a finire in D. Se la funzione è subiettiva, gamma del primo estremo dovrà andare a fine nel primo estremo dell'intervallo di archivo. Ma in questo caso, gamma di B vale D, gamma di A vale C e quindi questo viene F di D meno F di C. Viceversa, se gamma primo è negativo, questo viene F di C meno F di D. Allora, vedete che a questo punto la tesi si ottiene semplicemente, io dico che il termine è finito, perché? Perché la tesi si ottiene semplicemente raffrontando quello ottenuto, diciamo questo, questo e questo. Perché? Allora, vedete, se gamma è crescente, gamma meno 1 di C è uguale ad A, gamma meno 1 di D è uguale a D e quindi qua mi viene F di D meno F di C che è uguale, sta scritto qua, all'integrale tra C e D. E quindi questo è uguale a questo. Qualora gamma sia decrescente, allora qua mi viene l'integrale tra D e C. Scusate, tra D e D. Però, l'integrale tra B e D per definizione si pone uguale, quando l'estremo superiore è minore dell'estremo inferiore, l'integrale non avrebbe senso, l'integrale tra 5 e 3, per convenzione si pone uguale all'opposto dell'integrale tra 3 e 5. Quindi, se gamma è decrescente, questo viene B, questo viene A, ma è come dire meno l'integrale tra E e B. Ma cosa veniva qui? Qui veniva F di C meno F di D. Allora, quel meno, vabbè lo scrivo perché sennò... Nel favore, facciamo il caso... Allora, l'integrale tra C e D di F di X in D è sempre uguale ad F di D meno F di C. Allora... Adesso, supponiamo che gamma primo sia positivo. D di D è sempre uguale ad F di D. Allora, l'integrale tra gamma meno 1 di C e gamma meno 1 di D di F di gamma di T, gamma primo di T in D è uguale all'integrale tra... tra A e B di F di F di gamma di T, oppure se preferito. Qualunque caso... questo è uguale a che cosa è uguale? No, vabbè, scriviamo meglio così, uguale a integrale tra A e B di F di gamma di T, gamma primo di T in D D, uguale a F di gamma di T, D meno F di gamma di A. Ma qui usate un'altra volta il fatto che gamma è crescente e vi trovate così. Questo è uguale. Viceversa, questo se gamma primo è positivo, eh? Se invece gamma primo è negativo, che vuol dire che l'integrale tra gamma meno 1 di C e gamma meno 1 di D di F di gamma di T, gamma primo di T, in D di T, stavolta è uguale all'integrale tra B e A di F di gamma di T, gamma primo di T in D D. Ma questo per definizione è uguale a meno l'integrale tra A e B di F di gamma di T, gamma primo di T in D D. Questa è una definizione, è una convenzione, ma nel caso che gamma primo era minore di zero, abbiamo già fatto il conto che quello veniva F di C meno F di T. Vedete che se non ci mettevo questo meno, non mi trovavo con il segno, ma siccome c'è questo meno, questo qua riporta a posto il tutto e quindi questo qua è questo. Quindi sia nel caso che gamma primo sia positivo che nel caso che gamma primo sia negativo, le cose funzionano. Poi faremo degli esempi concreti, addio la parola, chiaramente con i segni si può impicciare, invece uno lo scrive, si evita ogni tipo di... Allora, perché vale anche questa formula? Questa formula è un altro modo di dire le cose, perché vedete, se gamma è crescente, allora gamma primo è positivo, o ci metti il valore assoluto, non ce lo metto, non fa nulla, qua però mi viene A e qua però mi viene B e si trova. Se invece gamma primo è negativo, qua da gamma primo al valore assoluto di gamma primo c'è un segno meno, però se gamma è la decrescente, gamma primo di C viene B, gamma primo di D viene A, quindi per girare gli estremi ci vuole un altro segno meno, due segni meno, si cancettano, e quindi due integrati sono un altro segno, quindi potete preferire la scelta che vi pare, cioè quando andate a fare la sostituzione, x uguale gamma di T, diciamo dx uguale gamma primo di T, e poi però, o diciamo, il fatto che gamma sia crescente o decrescente viene tenuto, quel fatto viene tenuto conto dal contro immagini degli estremi C e D, e allora non avete bisogno di mettere il valore assoluto qua, oppure qua ci mettete A e B senza stare a vedere se gamma è crescente o decrescente, però qua ci mettete il valore assoluto in maniera tale che se è crescente ci troviamo, se è decrescente poi ci troviamo, chiaro? facciamo adesso degli esempi, facciamo degli esempi, facciamo degli esempi, facciamo degli esempi, supponiamo che io voglia fare l'integrale tra 0 ed 1 di E alla X in dx, questo qua sotto, che è e alla x calcolato tra 1 e 0 e quindi viene e meno 1 questo già lo so allora cosa voglio fare? voglio fare la sostituzione x uguale seno di t a b sarà l'intervallo che va da 0 a pi greco mezzo allora la funzione seno di t da 0 a pi greco mezzi è crescente quindi gamma di t è uguale a seno di t gamma primo di t è uguale a coseno gamma meno 1 di t è uguale a tal coseno di x questa funzione la devo definire sull'intervallo 0,1 attenzione che gamma meno 1 sull'intervallo x gamma meno 1 primo di x è uguale a 1 fratto la radice di 1 meno x quadro che però perde significato nel punto 1 quindi non siamo perfettamente nelle ipotesi del teorema di cambiamento di variabili fa qualcosa, lo fa in realtà il teorema di variabili va anche in questo caso cioè vedete la funzione, queste due funzioni gamma e gamma meno 1 sono continue su tutto l'intervallo la funzione gamma è crescente la funzione gamma meno 1 è crescente pure lei quindi l'unica cosa che succede è che una delle due derivate perde significato in un estremo perché? perché la derivata di seno, cioè che è la coseno in di greco mezzi vale questo qua è consentito, va bene uguale il teorema vale anche in queste ipotesi ok, allora questo integrale a chi viene uguale? questo integrale viene uguale all'integrale tra 0 e greco mezzi di e elevato alla seno di t per coseno di t in d t quindi il problema qual è? è come vogliamo usare questo teorema per gli esercizi cioè questo integrale è facile da calcolare, vedi? va e meno 1 è chiaro? adesso andando a fare questa sostituzione so che e meno 1 viene anche questo integrale però io non è che parto da questo e arrivo a questo è il contrario, cioè normalmente mi trovo da fare un integrale che sta scritto per esempio così allora cosa faccio? devo riconoscere che se pongo questo uguale x di t, gamma di t questo non è altro che gamma primo di t di t allora faccio la sostituzione, la sostituzione in genere la faccio al contrario cioè io ho l'integrale scritto così allora riconosco che questo è gamma di t quindi riconosco che davanti c'è un altro pezzo che è esattamente gamma primo di t di t e allora qua ci vado a mettere e alla questo gamma di t lo chiamo x e gamma primo di t lo chiamo dx qua ci devo mettere gamma di 0 che fa 0 e qua ci devo mettere gamma di t che fa 1 quindi il teorema lo applico ma al contrario cioè parto da destra e arrivo a sinistra perché poi questo integrale è facile da fare e fa i più quindi io parto da questo integrale che a priori non è banale da fare ma riconoscendo il fatto che qui ci sta la derivata esattamente della funzione seno allora la funzione seno la chiamo x, questa è dx gamma più di t e qui il risultato naturalmente uno dice vabbè però devi anche controllare che la funzione che hai sostituito cioè la funzione gamma di t sia una funzione invertibile cioè che sia una funzione crescente oppure decrescente certo però normalmente tu puoi fare anche in modo di avere eventualmente spezzare il tuo integrale su vari pezzi e dove le varie sostituzioni siano crescente poi faremo degli esempi ok facciamo un altro esempio supponiamo supponiamo di voler fare l'integrale tra 0 e 1 della funzione arco tangente di x in dx allora per poter fare questo integrale adottiamo prima una tattica di integrazione per pa quindi questo qua è x allora prendo f piccolo uguale a 1 e g grande uguale all'arco tangente di x quindi qua mi viene x per l'arco tangente di x valutato tra 1 e 0 meno l'integrale tra 0 e 1 di x per la derivata dell'arco tangente che è 1 fratto 1 x quadro quindi x ok? quindi abbiamo questo risultato questo qua quando ci metto 1 mi viene pi greco 4 quando ci metto 0 mi viene 0 e poi cosa mi viene qua? meno allora qui cosa facciamo? io vado a fare la sostituzione 1 vado a fare la sostituzione 1 più x quadro uguale y uguale gamma di 1 più x quadro ok? y gamma di x scusate uguale 1 più x quadro uguale x così questa è la sostituzione che devo fare per quale motivo faccio questa sostituzione? perché dy in dx chi è? esattamente 2x cioè dy uguale a 2x dx con la regola mnemonica che mi sono dato quindi questo qua diventa meno l'integrale in dy mezzi perché x dx non è altro che dy mezzi di che cosa? di 1 su y perché y era 1 più x quadro e adesso devo andare ad aggiornare gli estremi di integrazione allora quando x vale 0 1 più x quadro vale 1 e qua ci devo mettere gamma di x perché se vi ricordate sto applicando il teorema al contrario quindi gamma di 0 fa 1 gamma di 1 fa 2 perché 1 più 1 al quadrato fa 2 quindi qua cosa mi viene? mi viene dy con quarti meno un mezzo logaritmo che è la primitiva di 1 su y? è il logaritmo di y valutato tra 2 e 1 quindi qua mi viene chi viene qua meno un mezzo logaritmo 2 logaritmo 1 fa 0 se preferite se preferite se preferite se preferite se preferite volete controllare le prime volte se prendete adesso la funzione logaritmo di 1px quadro e la chiamate e la chiamate un mezzo logaritmo 1x quadro la chiamate f grande la derivata di f grande chi è? è un mezzo 1 fratto 1 più x quadro per 2x quindi f grande è esattamente una primitiva di questa quindi l'integrale tra 0 e 1 di 1 fratto x fratto 1 più x quadro di dx si può fare direttamente come un mezzo logaritmo di 1 più x quadro valutato tra 0 e 1 allora questo qua viene un mezzo logaritmo 2 quando lo andate a sostituire vedete col meno davanti direttamente meno un mezzo logaritmo 2 e quindi vedete che ok? questi piccoli cambiamenti di variabile diciamo devono diventare in qualche modo automatici vedete che io faccio più fatica a scrivere il cambiamento di variabile che ha fatto in Africa in qualche modo qua la primitiva insomma si vede che il logaritmo è un mezzo logaritmo 2 ok? quindi questo integrale qui per esempio se lo volete indefinito semplicemente sarà se lo vogliamo fare indefinito lo rifacciamo lo stesso integrale indefinito come si fa? come si fa? si fa in quest'altro modo si scrive l'integrale dell'arco d'angente di x in dx è uguale a x per l'arco d'angente di x meno l'integrale di x fratto 1x quadro in dx uguale uguale a x uguale a x per l'arco d'angente di x meno adesso pongo y uguale a 1 più x quadro qua mi viene 1 su y per di y mezzo quindi questo mi viene x arco d'angente di x meno un mezzo logaritmo di y più costante uguale più costante che viene dal fatto che stiamo ricercando una primitive delle primitive è chiaro? adesso uno dice ma si può controllare tutto questo? è certo basta fare la derivata di questo che viene l'arco d'angente andiamo a fare la derivata di questo come si fa la derivata? viene arco d'angente più x per la derivata dell'arco d'angente che viene 1 più x quadro 1 più x quadro 1 più x quadro 4 amiene meno un mezzo 1 più x quadro per 2 x la derivata di c viene 0 hai su 2 e 2 semplici questa semplifica e rimane l'arco d'angente questa è F grande e questa è F grande e questa è F grande quindi questo teorema è il teorema centrale che ci serve per andare alla ricerca delle primitivi perchè molto spesso la primitiva non si vede automaticamente ma bisogna fare un teorema per andare a trovare questo non significa ripeto per la cinquantesima volta che se la primitiva non si trova in maniera esplicita non ci sia qualunque fissione continua ammette è integrabile secondo Rima quindi ammette primitivi di classe G anche se queste primitive non si riesce a fare tutto questo discorso è di estrema utilità quando questo ci aiuta a trovare la primitiva se non ci aiuta a trovare la primitiva l'integrale si farà diciamo in modo approssimato con una definizione oppure con altri metodi per serie vedremo in analisi di loro in altro modo è chiaro? ok allora facciamo una piccola pausa grazie grazie grazie